La rappresentazione della violenza all'interno dei videogiochi è sempre oggetto di controversia. Spesso è un argomento trattato con superficialità e in modo fazioso, soprattutto da quella stampa generalista che pone come obiettivo finale non l'informazione, ma l'indignazione del suo pubblico. Ancora più grave però è quello che è successo proprio in questi giorni, quando in seguito all'ennesima strage avvenuta negli Stati Uniti d'America è stato lo stesso presidente, Donald Trump, a puntare il dito contro il medium videoludico. Sfrutterei l'occasione per ribadire alcuni punti fondamentali della questione e per commentare alcune reazioni interessanti che sono avvenute in seguito alle dichiarazioni del presidente Trump. Io sono il Poro Michele e questo è un video un po' diverso dal solito, ma spero vi piaccia lo stesso. Se così fosse lasciate un like e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle mie prossime produzioni. Dobbiamo fermare la glorificazione della violenza nella nostra società, in questa rientrano i videogiochi disgustosi e macabri che ormai sono sempre più comuni. Al giorno d'oggi è troppo facile per i giovani problematici circondarsi di una cultura che celebra la violenza. Dobbiamo fermare o ridurre al minimo questo fenomeno e dobbiamo iniziare subito. Queste sono le parole del presidente Trump che si unisce al dolore di una nazione messa in ginocchio dall'ennesima e tragica esparatoria. Le stragi avvenute nel weekend in Ohio e Texas non sono affatto una novità negli Stati Uniti d'America, dove il problema anzi sembra non trovare mai una soluzione. Fa impressione vedere il presidente Donald Trump scagliarsi contro la glorificazione della violenza e una cultura che propone valori negativi per una gioventù fragile e problematica. Ancora di più, sia alle radici di questa cultura vengono posti i videogiochi. Partiamo dal presupposto che è stato dimostrato più e più volte che non esiste alcun tipo di correlazione scientifica tra la rappresentazione della violenza all'interno dei videogiochi e l'insorgere di comportamenti violenti. Eppure il parallelismo viene riproposto ciclicamente e anche con un discreto successo, e questo secondo me per svariati motivi. Innanzitutto un medium relativamente giovane è ancora non compreso nella sua complessità. Inoltre è potenzialmente sconosciuto al pubblico adulto di Trump, se non altro per una ragione anagrafica. E c'è poco da fare, di fronte a tragedie così dolorose e irrazionali, il metodo più semplice per trovare una soluzione è quello di ricercarla all'interno di ciò che non si conosce. E il discorso di Trump, scusate il francesismo, è la paraculata massima per non affrontare il discorso di petto e allo stesso tempo dare in pasto al pubblico una vittima sacrificale a cui addossare superficialmente tutte le colpe di quanto accaduto. Ma il problema reale è ben più radicato nella contraddittorietà della società americana, e non sarà di certo la chiamata alle armi di Trump contro i videogiochi cattivi a risanare un tessuto sociale profondamente lacerato. Sia chiaro il mio punto di vista, non è che i videogiochi siano buoni in assoluto, ma più che altro non vadano trattati con leggerezza. La rappresentazione esplicita della violenza, così come l'affrontare tematiche mature e controverse spesso con un taglio adulto, non può essere pensato indistintamente per qualsiasi fascia di età. I più giovani vanno tutelati, è vero, ma è per questo che esistono i sistemi di rating come il PEGI e l'ESRB. Non penso neanche che modificare le regolamentazioni del gun control possa essere una soluzione efficace per questa piaga principalmente americana, dice bene Trump quando parla di combattere la cultura che glorifica la violenza. Ma questa non si origina né nei videogiochi né nella facilità con cui si comprano le armi. È evidentemente un problema che parte all'interno delle mura domestiche, nella percezione che ha di se stesso l'individuo e cittadino degli Stati Uniti d'America. I videogiochi sono solo uno specchietto per le allodole, un'industria sì diffusa su tutto il territorio, ma non organizzata sufficientemente per rappresentare tutta la sua utenza e difenderla di fronte a questi attacchi spudorati di convenienza. È molto interessante vedere la reazione dei grandi nomi dell'industria che evidentemente iniziano a prendere coscienza dell'importanza del ruolo che hanno all'interno della società, così come della funzione formativa che svolgono i videogames verso i più giovani. Tra tutte è lapidaria la risposta dell'ex presidente di Nintendo of America, Reggie Philzahimè, che nonostante il suo ritiro ci tiene a porsi in netto contrasto con le affermazioni di Donald Trump. Quando i malinformati sono critici verso l'industria videoludica e la sua community, ne esce fuori una storia di impatto. I fatti dimostrano che le nazioni con più introiti pro capite relativi al gaming hanno meno morti d'arma da fuoco, tranne che per gli Stati Uniti, dove il 4% della popolazione detiene il 43% delle armi. I fatti sono fatti. E con questa affermazione voglio chiudere il video. Ragazzi, vi aspetto nei commenti, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gigantesco problema e dei continui attacchi rivolti all'industria del gaming. Io sono il Poro Michele, alla prossima, ciao! Ciao!